Cosa vuol dire per Paolo Briguglia essere attore? È un cammino che ho cominciato tantissimi anni fa a liceo, per gioco, perché ero andato a fare il teatro con i miei compagni di classe e l'ho capito forse veramente quando abbiamo messo in scena lo spettacolo la prima volta che mi sono trovato lì con quegli occhi del pubblico che ti guardavano a dire parole non tue ma come fossero tue e a raccontare una storia e ho capito che cosa voleva dire questo lavoro, la bellezza di poterlo fare e poi da lì è cominciato tutto, gli studi, sono andato a studiare a Roma ho cominciato a lavorare nel cinema, in televisione, ma me lo porto sempre dentro, quell'emozione del primo giorno vuol dire avere da una parte una grossa responsabilità di scegliere le storie belle, storie che possono arrivare al pubblico Attore di teatro, attore di cinema, il debutto è importante con il manoscritto del principe Lì per la prima volta avevo un ruolo molto importante e lì c'era Michel Bouquet, un grandissimo attore francese che interpretava Thomasine Lampedusa con il quale avevo la maggior parte delle mie scene quindi da una parte lavoravo, dall'altra imparavo, era veramente un privilegio ma la cosa bellissima fu lavorare con Jean Moreau che conoscevo dal cinema perché avevo visto tanti suoi film, Orson Welles, Truffaut fu uno shock fortissimo, era entrare in relazione con il cinema, quello vero l'attore non è solo quello che vedi sullo schermo in teatro, l'attore è come fa il suo lavoro, come sta sul set è un processo creativo che coinvolge tantissimi passaggi uno dei lavori più duri ce l'ha lo scrittore, è veramente difficile infatti i testi poi classici, quelli che superano il tempo, sono meravigliosi non smettono mai di parlarci e sono rari poi arriva il regista e tante volte ci sono gli autori che si terrorizzano perché pensano che il loro lavoro venga stravolto ma lo stesso, nei casi più famosi, Chekhov, uno degli autori più importanti per il teatro rimaneva atterrito perché pensava che fosse una cosa completamente diversa da quella che lui aveva immaginato e ovviamente gli attori che aggiungono un ulteriore livello dalla bravura di un interprete poi dipende il successo di un'opera perché è in grado di fare davvero arrivare al pubblico quelle parole quindi è un processo in cui l'opera si modifica costantemente e continua a modificarsi davanti al pubblico quando c'è qualcuno che le ascolta per la prima volta se tu sei in ascolto del pubblico senti che si crea un ricircolo tu dai qualcosa a loro, loro la comprendono e la loro comprensione ti fa andare avanti nel racconto e ti modifica e allora tutte le sere le scene diventano più belle più piene di senso, crescono tu dici imparo sempre qualcosa allora qual è anche il ruolo dell'arte? in qualche modo questa cosa è legata a un'intuizione di, secondo me, di spiritualità cioè di intuire che l'essere umano non è solo nella quotidianità ma dentro di sé altro e poi l'arte che cosa fa? isola dei momenti questo ci insegna l'arte attraverso quei momenti isolati che sono un condensato di esperienze confrontare le nostre con quella riviverlo, scoprire qualcosa nella nostra vita in fondo quando ci mettiamo a confronto con un'opera d'arte è come se ci risettassimo e capissimo se va tutto bene intuissimo che c'è qualcosa da sviluppare ci mette in contatto con una parte di noi più elevata, più profonda un'opera d'arte, quando è veramente un'opera d'arte non si lascia soltanto guardare ma ci guarda dentro ritorniamo al cinema protagonista, coprotagonista con Luigi Locascio dei Cento Passi un film bellissimo ma importantissimo per la Sicilia come hai vissuto questo personaggio da siciliano? ti confesso che all'inizio è che il film, mentre lo giravamo, non aveva questa... non potevamo prevedere che avrebbe avuto questo impatto anche sulle indagini, anche sulla coscienza popolare era una storia che conoscevano pochissimi io da palermitano non la conoscevo quindi io cercavo di capire che cosa dover mettere in scena di questo personaggio le sue insicurezze ma poi invece dopo la morte di Peppino la sua forza e il suo caraggio che erano poi quelli che ci avevano fatto arrivare la storia fino a noi quando giravamo questa scena all'aperto soprattutto la scena dei Cento Passi con queste tapparelle nel paese chiuse e abbassate ma queste persone da dietro che spiavano però poi quando ci sono stati quei dieci minuti di applausi prima a Venezia e poi qui a Palermo e quella commozione quelle lacrime e quell'impatto fortissimo del film lì è cominciato un altro cammino che ha avuto poi se non una chiusura del cerchio comunque un altro passaggio importante dieci anni dopo quando c'è stato l'anniversario del film era stata affidata alla casa di Badalamenti e alla fondazione Impastato ci siamo ritrovati nell'androne di questa casa stranissima a Treppiani con il cantautore Pippo Pollina che cantava la canzone che aveva scritto per Peppino Impastato tutto in cerchio e abbiamo avuto veramente i brividi e però anche grazie al nostro lavoro si erano mosse le montagne che una casa di un boss mafioso venga affidata alla famiglia della vittima della sua vittima che la destina a usi culturali ricreativi per i ragazzi di Cinisi e quando hai la fortuna come attore di partecipare a un progetto così e dai il tuo piccolo contributo perché venga realizzato un'opera così grande è veramente ok posso dire di avere fatto la mia buona battaglia e avere avuto qualcosa di importante da questo lavoro grazie a tutti